Oranghi cacciati dal loro ambiente naturale, la foresta fluviale sacrificata per far posto alle piantagioni di olio di palma. Per gli oranghi la sopravvivenza è sempre più a rischio. Visto che National Park, un'area protetta grande 7,9 mila chilometri quadrati, potrebbe venire aperta allo sfruttamento commerciale. Un nuovo piano di sviluppo di miniere, industria della carta e dell'olio di palma, porterà via un ulteriore spazio. Le storie che però ora si raccontano non sono più quelle di cuccioli rimasti soli che senza le cure materne non sono in grado di sopravvivere in natura. Consigli per una sana vacanza, riduci sempre, se possibile, il volume degli imballaggi. Schiacci i vicini di spiaggia con giochi rumorosi o pericolosi. Se sulla spiaggia c'è la bandiera rossa, usa shampoo e bagnacchiuma a meno di 500 metri dalla sponda. Schiaccia le bottiglie di plastica richiudendole poi con il tappo. Comprimi carta e cartone. O per pulirti finirai per sporcare la spiaggia e inquinare il mare. Ricorda che è vietato navigare a riva con musica ad alto volume. Non disturbare. Grazie. Grazie.